Faccio un attimo una foto tattica. Poteva essere 666. Anche secondo me, perché l'orario è questo. No, no, fermo. Ma stavola non ci sei più stato, no? Il nostro paese non c'è più stato. Il nostro paese è stato un attimo. E l'ora è stata un attimo. Un'altra parte, anche alla fine, è stata una partecipare. Allora, c'è una partecipazione. L'ora è stata un'altra partecipazione. L'ora è stata un'altra partecipazione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.